Conclusa la querelle sull'ingresso di Ariano Irpino tra i beneficiari di un fondo statale per le zone rosse, dopo una prima esclusione, come annunciato dal deputato del Tricolle del Movimento 5 Stelle, Generoso Maraia, la cittadina arianese è rientrata tra quelle che potranno contare su un mirato sostegno economico per ripartire dopo circa 40 giorni di quarantena. Resta fuori invece l'auro, dove tutto sommato, la chiusura, molto più breve, è stata solo una precauzione per un presunto focolaio, poi non rivelato sitale, legato al contagio di sette familiari più il titolare dell'antica salumeria Castaldo. Vicenda che ha costretto alla chiusura l'esercizio commerciale, un periodo durissimo per il signor Giuseppe, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto quello psicologico, con tutti i risvolti del caso. Intanto, ad Ariano è terminato lo screening sierologico disposto dalla Regione Campania su tutta la popolazione. Il totale delle persone che si sono sottoposte al test è di 13.444, in pratica il 75% degli abitanti. I prelievi per due giorni effettuati nei seggi elettorali sono continuati per altri due nel centro fieristico di località Casone e a domicilio delle persone che ne hanno fatto richiesta perché impossibilitati a muoversi. L'esito del monitoraggio dovrebbe essere noto già domani, a comunicarlo sarà lo stesso governatore De Luca. Grazie. Grazie.